Di nuovo in onda con la nostra rassegna stampa e cominciamo allora ad occuparci di notizie di taglio locale. Partiamo da Messaggero Ostia Litorale con la prima pagina e lama che finisce nuovamente nel caos allontanato Strozzi. Il nuovo presidente era indagato per traffico di rifiuti, ha dichiarato che pensava non fosse importante, per Marino è stata tradita la sua fiducia e ora l'opposizione chiede le dimissioni anche all'assessore. E quindi nuova Tegola che approfondiamo subito all'interno e vediamo allora cosa riporta il giornale romano. Bufera sull'ama, Strozzi è fuori, Marino tradita la mia fiducia, il sindaco dichiara non mi aveva informato, rinunci all'incarico. Il manager dice pensavo non fosse importante, adesso lascio. Quindi si è subito fatto da parte. Ancora tre giorni per scegliere il nuovo presidente commissario frenata del ministro Orlando serve un piano. E questa vicenda ha suscitato ulteriori timori e imbarazzi nella maggioranza. L'opposizione si sta anche mettendo d'accordo per sfiduciare l'assessore ai rifiuti e Stella Marino. La scelta di affidare la guida di Ama a Ivan Strozzi, indagato per traffico illecito di rifiuti, infatti pesa sulla sua carica. Già con la nomina del capo dei vigili il Campidoglio era stato costretto a fare retromarcia. Aveva scelto per guidare la municipale Liporace, ufficiale dei Carabinieri, con un curriculum di tutto rispetto, ma privo dei requisiti necessari. Marino è stato costretto a scegliere il suo sostituto, come accadrà ora, per il nuovo presidente di Ama. E sul capitolo municipale ci spostiamo sul web, visto che è stato citato anche in questo pezzo. E vediamo che sono stati resi noti i nomi di tutti i comandanti. Al centro arriva Moretti, Scafati spostata invece sulla Cassia. E quindi dopo la travagliata scelta del comandante del corpo arrivano le nomine degli uomini e delle donne che andranno a dirigere i gruppi della Municipali. Un valser di posti che è scatorito dopo una settimana di intensi colloqui. E qui sono riportati nel dettaglio per tutti i municipi i nomi di chi dovrà occuparsi del corpo dei vigili urbani. Buon lavoro a tutte queste figure che avranno sicuramente molto da fare. E torniamo invece all'interno del quotidiano romano, il messaggero Ostia Litorale, Tares. Vedete il titolo, ecco le cartelle pazze e allarme pagamenti online nel modello F24 inviato dal comune. C'è una X di troppo nella casella saldo. Molti si sono visti rifiutare l'operazione, allora Lama ha avvisato poste e banche. Per l'azienda la colpa è delle troppe variazioni normative, sportelli presi d'assalto potenziati fino al 24 gennaio. Ricordiamo allora come si paga l'F24 per i servizi indivisibili. Si può pagare presso gli sportelli bancari, postali o anche online. In caso di problemi dovuti alla spunta sul campo saldo è sufficiente toglierla per procedere. I sistemi bancari e postali sono informati sulla corretta procedura da seguire per il modello F24 unificato. I dati del modello F24 saranno semplificati, vanno su IMU e su altri tributi locali. Il numero identificativo non è necessario. Quindi queste le istruzioni che bisogna tenere a mente e ovviamente il caos che si sta creando in questi giorni presso gli sportelli non aiuta di certo. Andiamo ad Anzio in taglio alto con la crisi di Villa De Pini che licenzia ben 53 dipendenti. L'esito della casa di cura convenzionata di Anzio si tratta di personale amministrativo e di quello addetto alla polizia e alla cucina. La decisione della Merinvest, leggiamo, società proprietaria della struttura sanitaria, arriva senza un preavviso, un periodo di cassa integrazione preliminare. Quindi è stata una decisione sofferta ma presa con molta tempestività. Leggiamo inoltre l'incendio delle tre Molotov che hanno bruciato le auto dell'ex consigliere di Pomezia. Si tratta di Fiorenzo D'Alessandri che non ha capito ancora il motivo di questo attacco. Una scia di fiamme che da Ardea si sposta ora anche a Pomezia. Andiamo su Latina Oggi, entriamo direttamente all'interno per occuparci delle notizie che riguardano proprio il territorio di Ardea e Pomezia. La commissione d'accesso sui roghi è stata richiesta da due parlamentari di SEL. Chiedono di verificare la presenza della criminalità organizzata nel comune Rutulo con una interrogazione di Cervellini. Vediamo anche qui la notizia riportata dell'incendio alle auto dell'ex consigliere comunale di Pomezia del PD D'Alessandri. Troviamo inoltre la notizia del confronto tra Fucci e i rappresentanti dei lavoratori della Pomezia a servizi. Un incontro che il sindaco ha tenuto per spiegar loro le idee dell'amministrazione e i provvedimenti che saranno presi prossimamente. Lo sbarco divide Anzio e Nettuno, divide soprattutto sulla realtà storica dei fatti che si sono verificati. Si rivendica il luogo preciso dove toccarono terra gli alleati, da una parte gli inglesi, dall'altra invece gli americani. Questo botta e risposta è proseguito per tutta la giornata del 14 gennaio tra Chiavetta da una parte, sindaco di Nettuno e Luciano Bruschini. Andiamo anche all'interno per affrontare le notizie che riguardano Aprilia. Oggi alle 18 l'atteso Consiglio Comunale alla presenza del prefetto divisi sulla legalità di Marcantonio parla di atteggiamento pretestuoso della minoranza. La minoranza ieri aveva attaccato invece i suoi colleghi di maggioranza in merito alle dimissioni di Chiusolo. In strada senza paura crescono le adesioni in vista dell'appuntamento che partirà da Piazza Roma alle ore 19, proprio appena termineranno i lavori del Consiglio Comunale Speciale. A proposito di cronaca e di iniziative andiamo a vedere insieme cosa ha prodotto l'ultima operazione della Guardia di Finanza nel servizio che ha realizzato per noi Giulia Presciutti. Vediamo. I finanziari del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo su conti correnti e possidenze patrimoniali nei confronti di 37 soggetti indagati, a vario titolo per le ipotesi delittuose di truffa aggravata, falso ed accesso abusivo a sistema informatico. Le indagini condotte dal nucleo di Polizia Tributaria di Roma, innescate da una denuncia dell'Inps, hanno permesso di bloccare una truffa commessa ai danni del medesimo istituto fin dal 2006 e che ha generato l'indebita erogazione di prestazioni di invalidità civile ed emolumenti non spettanti per oltre 1,6 milioni di euro. Il tutto era stato organizzato da un dipendente della filiale Inps di Roma a Casilino che predisponeva false posizioni previdenziali per amici e parenti in tutto 36. Successivamente veniva ricompensato attraverso la restituzione di almeno il 50% delle somme indebitamente incassate. Il sistema di frode prevedeva l'abusivo utilizzo della procedura informatizzata denominata pagamenti vari. Quest'ultima era normalmente adottata dall'ente in maniera residuale per fronteggiare dei pagamenti in assenza di un software gestionale ad hoc e consentita per la liquidazione di arretrati di ogni genere, pagamenti non riscossi e conguagli. Il pubblico dipendente infedele risulta aver emesso tramite bonifici ben 290 indebiti mandati di pagamento che hanno generato erogazioni non spettanti in favore di 36 soggetti, non titolari di posizioni di invalidità civile o comunque non legittimati a riceverli. Il tutto utilizzando false causali di pagamento che ne giustificavano l'erogazione. Alla percezione dell'indebito seguiva la spartizione dell'illecito profitto con i concorrenti nella frode. Tre denunciati alla Procura della Repubblica di Roma, familiari del dipendente e baby pensionati che all'epoca dei fatti avevano un'età compresa tra i 20 e i 30 anni. Tre beni sequestrati su disposizione del locale tribunale, oltre alle disponibilità bancarie, vi sono una decina tra terreni e appartamenti per un ammontare complessivo di 1.625.000 euro, valore corrispondente a quanto illecitamente sottratto nel tempo dalle casse dell'Inps. E con questo servizio si chiude il nostro odierno spazio dedicato all'informazione nazionale e locale. Noi torneremo come di consueto domani alla solita ora con tutte le notizie e tutti gli aggiornamenti dal web. A domani, arrivederci. Grazie.